ritorna nella lobby ritorna nella lobby vado scolando tutto a posto si vede come michael jackson di fortnight il caccio fine tu le corri, fammi di nuovo il verso grazie grazie ma che cosa è? se no è babbo l'assassina ragazzi, ma te lo avete già eeeh gabristi, ora restate qua che c'è un bug non so dove ok eeeh che cazzo è il c**o lo sai perchè spamma o è utile come un c**o nel c**o lo sai perchè spamma? è vero raga non ci sono le cose di pantano ma non c'è una sega raga ma non c'è una sega quella la 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 i giochi mi sto mangiando tutto si lo si mangia tutto lì affano oggi mamma intanto mi fai delle missioni pure voi ma alla fine raga vai a guardare vai in ingame con un loot della madonna con i loot eeeh non c'è niente praticamente non c'è uno schifo ma una buona ma non c'è una sega è diverso sega quello la hai segato? che coglioni ma perchè ci sono sempre zone di m***** quando devi riusciare perchè non sta io devo almeno trovare una minigun di quelle aliene e sono a posto che quello lì saranno 50 cristiani dalla fine madonna mia boh 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 vabbè un'armaliena ci sta al posto del corpo ma che sta buttando le bombe lì già cosa? non so che quel bimbo spastico che butta la bomba eeeh 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 io non parlo peter griffid ma non lo sai lo so che cazzo è griffid eeeh 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 o questo è qua? si mette buh e poi mi vuole dicendo che ce la fai ma perché no? mi devi fare queste complicazioni eeeh 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 guarda cosa c'è aaaaaaaa Già un lì! Ma sono più di prima, ma che cazzo? Uni! Uni! Sperma, singa! Uni! Porco zio! Porco zio, raga, ma non voglio preparare già all'inizio! Raga, ma sono più di prima! Comunque, l'uno di prima è stata bellissima! Sì, io l'ho creato! Raga, ma sono più di prima! E vabbè, mi stanno violentando in 40.000! Io ho 29 municini R, non ho una sega! Alla testa dovete mirare! Eh, al cazzo dobbiamo mirare! Alla testa dovete mirare! Fidatevi che... Si fa la differenza! Questo fucile che ci si scarica in un batter in culo Mentre c'è la batteria mini stilo quelle nuove Tu caricatore, girerai più veloce! Bravo! Ho più sensi tu caricatore, ti inculerai più veloce! Ma è possibile che quando voglio munizioni di aeree non le trovo mai? Scrivi l'aeree e poi lo trovi Ah, merda! Ma è possibile che tutto si scarica lì! Niente! Ciao da lotta! Amici sono crefato! Amici mi rubano la bici! Gabri viene a guardare i miei fans! Si riguarda di cosa ti sono Dove sono le tue vance? Dove sono le tue vance? Dove sono le tue vance? Non le trovo! E' no, quanto è portato vicende! I colprpr! Che c'è? Favij praticamente Si! Venite! Venite! E c'è... Ma il mio destilissimo! Oh ma che bordello voglio! Mi vogliono l'Italia! Ma sono impazzuti! Sono pazzuti! Sono pazzuti! Sono moruto con tutte le bombe del mondo! Ho fatto fatto capodanno E' arrivato capodanno Verda! Verda! E' arrivato capodanno Poi di come è che c'è l'astronave Ma questo rumore C'è l'astronave praticamente Lo senti? Miau! Miau! Forza che ce la potete fare! C'è dei moriti C'è dei vissuti Siamo inculati E' diverso Mettiamaci un po' di munizioni Comunque è qualcosa di impressionante questa modalità raga Io giuro Secondo me è una delle migliori modalità di Halloween Quante munizioni? Come quante munizioni? No 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 Anch'io 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 Eh vabbè ho scelto qua la tua Non ne ho tre colpi Intraietta e 50 coppa Mi dai in colpi aere bro? In colpi aeree? Aeree o no? Aeree o no? Aeree o no? Dammi un po' Non ne ho Sì sì Bro io giuro ti stimolo un bordello un abbraccio ora nessuno il tuo braccio voglio anch'io da ma la dama ma che sta facendo quello si sta spaccando il palo si pare che spacca questo è un esempio di bimbo down ci staviamo lì di pizzo uno posto di stagione disinstalliamo di ragazzo di tutti almeno di nato di raggiungere tutti fatevi fermi in fila indiana che c'è il fuocherello fai del culo ma che ma non ha lasciato questi signorini che bordello assassini o non mi rubate la bici ma dopo quando ce n'è vabbè vabbè dobbiamo era la polizia polizia aiutatemi polizia polizia ma ora ti chiamo polizia vengono pure dalla 6 ma così perché un gioco può essere così io mi sono lasciando quello che mi dà un pastiglio sono quelli che lanciano il fuoco madonna se esplodete bene ma no ma stanno quando gli stanno mandando dove c'è lo schiaffi e lasciatemi stare non gli ho fatto niente la zia è là sotto ma il mio obiettivo di minocchio poi aiuto 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 al pubblico pure dietro guarda quanti cazzo sono mi rubano la bici non devono essere vicino a me buzzo non è buzzo devo andare a trovare la mamma io le cigaretta merda amici questa mia da poi smettano i miei amici madre attendo dietro di te sposto di tizio ragazzi il pubblico dietro sono pericolosi guarda quanta gente che c'è ora ci avete rotto su cazzo aiuto rubano la bici mamma mi ha scoppiato l'ultimo bomba che è successo ragazzi immagino quando ci sarà ancora iron man porco zio che ce l'ho iron man anche io ce l'ho iron ma io ce l'ho come un iron man iron merda guardate vado a vedere se non funziona come non funziona una volta no io faccio il lusso io voglio la falce raga venite verso di me che si sta spostando la safe arrivo chi c'ha la benzina qua chiamoci la benzina raga preparatevi sii venite sopra la scada sopra il paese io sto ancora lottando brutta brutta come affandozzi brutto libero ma c'è il boss raga ma siamo arrivati nel game con una merda ma sono seri c'è la professoressa c'è la professoressa c'è la molletta ma chi fa che questo qua esplode eh buona le bombe di natala oh che imbatarta 81 81 oh samara a morire guardami il pene guarda quanto cazzo di roba buona c'aveva sta buttana sta buttata di moto cazzo hai fatto gente pulo aia mi sta twinkiao tu un bulone la finisce tutto non c'è una falcia del inveceverso però che cazzo fai ma perché sei fermo sei stupido no devo trattare tutte le cose che ci metti perché le parti sono un'immunizione non niente tutto a zero ci devo fare che bordello aiuto stanno mangiando e ci credo non avevo munizioni e spiriti ricordati anche di più Sì, non puoi, perché si stai chiedendo un po' dietro. Corri, Corri! Corri, Corri! Corri, Corri, Corri!